Il peccato rovina il cuore, rovina la vita, indebolisce e ammala. Nella messa celebrata a Santa Marta, traendo spunto dalla prima lettura, Papa Francesco è tornato a parlare della realtà del peccato, che è un atto di ribellione e l'ostinazione a non ascoltare la voce di Dio, perseguire invece la cupidigia, l'invidia, l'odio, la maldicenza. Proprio quest'ultima, insistito il Pontefice, rappresenta una guerra del cuore per distruggere l'altro. Nella riconoscere i propri peccati, soprattutto durante la confessione, che non è un elenco telefonico o la lista della spesa, il fedele dovrebbe guardare il peccato in rapporto con il Signore, che ci ama, ci abbraccia e ci perdona. Non è una macchia da toglierti. Se fosse una macchia, basterebbe andare dalla tintoria e farci pulire. No, il peccato è un rapporto di ribellione contro il Signore. E' brutto in sé stesso, eh? Ma brutto contro il Signore che è buono. E se io penso così, i miei peccati, invece di entrare in depressione, sento quel grande sentimento, la vergogna. Il disonore che dice il profeta Barco. La vergogna è una grazia.